Ad un mese dalla tragedia del crollo della passerella nella vela celeste che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di 13 resta il dramma degli svollati. L'amministrazione comunale e la prefettura hanno subito trovato delle soluzioni per raccogliere le oltre 800 persone sgomberate attraverso un contributo economico che consentirà ai nuclei familiari sfrattati di affittare un appartamento in attesa dell'assegnazione di nuovi alloggi per gli aventi titolo. E mentre continua la rete solidale di chiese e terzo settore a sossegno degli svollati, il presidente dell'ottava municipalità Nicola Nardella rinnova il suo appello a procedere spediti per garantire il diritto alla casa a chi l'ha persa. Ma in tanti faticano ancora a trovare una nuova ubicazione pur potendo soffruire del sossegno economico e per ora rimangono ancora nelle strutture che li hanno accolti, associazioni e chiese, che però devono lasciare a breve termine. Ieri mattina a monitorare l'avvio dei lavori di demolizione nella vela celeste c'erano anche alcuni degli svollati preoccupati del fenomeno dello sciacallaggio, dato che i mobili e altri effetti personali sono ancora all'interno delle abitazioni. Da questo dramma si coglierà l'occasione per accelerare il progetto Restart che prevede l'abbattimento delle vele gialla e rossa e la messa a nuovo di quella celeste per riassegnare finalmente un alloggio dignitoso.